non è male che ho trovato una parte di CCTV perché sennò tipo bestemmia i santi a parte questi che giocano perché su deathmatch fanno cagare le lobby c'è tutte modate lo schifo più totale come aria il nemico Emanuele costa costa curta incredibile m93 raffi che si fa comandare bugia si va a bestemmiare poi no che cazzo è sta merda dai ma ha chiamato l'emp ma che cazzo c'è praticamente non lo so se giochi con il gtf clan li fai la nuclear contro li fai direttamente easy busy le moncristo ma zi le moncristi che sono più di uno no vaffanculo ammambata che io ho i wikiscopi li so fare forse no mannaggia paolo mannaggia ma io dico no se quel giorno invece di grabbare avesse mazzo il nabbo chissà come cazzo sarebbe diventato paolo cannone no cioè se ci pensate regà paolo cannone che non grabba c'è assurdo tipo parebbe non lo so lo scoop dell'anno no tua madre questo è un po mia rada ma giusto un po mazza è proprio già guarda che qui no facevo la doppia vabbè ma tua madre no se l'avessi fatto pompini era meglio sto dicendo cosa senza senso ma va bene c'è figa bella brada che poco tante mappe sta merda dove uscire praticamente se va in bagno la merda fa un applauso a sta mappa perché fa ancora più schifo della merda c'è tendiamoci un attimo già figa ragazzi sta questo da bestiole roba bella brada ok le ucciso ora sono felice ora sono una persona migliore adesso scusa no mi chiesta quel polo ma no madonna quanto faccio schifo io faccio più schifo di frironare le sette regà e ce ne vuole oh ma ha tolto la no l'arrier vaffanculo vaffanculo avevo però fatto 12 kill col cerco lega c'è un passo tantissimo proprio questo qua non deve essere un video praticamente io cosa ho fatto incominciato la partita ho detto vabbè mo inizio a registrare un video giusto perché gesù cristo è morto capito e per celebrare l'occasione ho detto vabbè mo faccio un video così lo chiamo cosa c'era in quel video un gesù cristo morto insieme a tutte le altre bestemmie scrapyard fa tipo schifo al al porco di cristo si lo so sono moddato non mi rompete i coglioni mi sono fatto arrancare perché non c'evo voglia di farmi tutti i livelli io l'unico gioco che gioco a sto gioco ahahah ahahah l'unico gioco che gioco a sto gioco che cazzo ho detto raga l'unico gioco c'è l'unico cod a cui gioco pain e bo2 c'è raga cosa cazzo ho detto c'è gli indiani per natura vendono le rose ma se tu li incontri e non vendono le rose vuol dire che sono come io che gioco a questo gioco capito la stessa cosa cambia un cazzo vai intervention alle mani proprio come c'ho le mani che fanno schifo mi faccio un bel intervention alle mani ahahahahah che bast... battute di merda diciamo che sono il king pure questo il king a essere nab no ma tua madre no perchè giocava con i cazzi nel culo e' una cosa che fa male cioè ma non per esperienza da personale ma perchè e' scontato c'è come le cose non so a tutto 99 centesimi che poi fai a tutto 99 centesimi e costano un euro c'è lo schifo capito lo schifo di quando c'è il clickbait pure nei supermercati è un cosi regale è così lo schifo oh mio dio tua madre dove sta? ah affanculo stava e vabbè così me lo dici se non vuoi dire in un modo migliore invece no mi hai... oh tua madre però i bocchini no? dovrei essere un po' più pratica per farli bene nooo figlio della merda sono morto con una claymore con una claymore madonna puttana che schifo di mappa non gioco a mv2 penso dai tempi di crisi questo tipo l'ho spento come un interruttore madonna che schifo di gente divenisse la cacarella spruzzolo ciao fratà non pensi di mettere a fai trick su ps3 pure bella fratà perciò madò raga ma quelli che fanno trick su ps3 ma li voglio immaginare c'è what the fuck ma da questo chiamano gli harer erano i due per tre cazze mamaci cod feeding killcam proprio questo tipo non m'ha visto nooo no tua madre no l'harer non ci voleva però eh guarda quello guarda che cosa è sempre lo stesso eh ha acquittato l'host aaaaaaah cristo oddio vabbè questo lo so è johnny creek proprio col bar questo tipo ora no no tua madre però i bocchini li faceva eh lo dico madonna che cancro che sei devi morire di brashley stambi devi morire porco dio no bella madonna mia tuo cazzo è bello il cecchino di sto gioco regà mamma mia c'è bello solo le lobby non facessero schifo come il cristo era meglio ora tipo non lo so magari lo prendessi in wallbang tipo non lo so mi fa salire sono un marocchino porco dio tutto sto razzismo qua manco marucci apprezzo l'itmarker no brate madonna questo che vita di merda c'ha una vita di merda questo oh din don mi ha ucciso campanello questo è fa arid madonna ti ho orato ciao bello no dai stavo a fare una doppia non lo so ma sei che su stu gioco regà Troppo bello Vaffanculo C'è Bu Gente che ti viene sopra Vabbè oh 20 file le ho fatte sto giro Cioè è buona come il pane proprio Eh sta mappa non la so Essendo io Non sono un veterano di Mv2 Le mappe Non le conosco Bene Cioè le ho viste ma non le so giocare E come non lo so Quando conosci una ragazza Dici guarda la conquista E poi non sai un cazzo di come conquistare La stessa cosa Mando un sicario a casa Lo chiamano il deep web Sì vediamo se ti campi Ma da questo è un po' retarded però C'è cazzo va Oddio mi dirlo stavo rendendo No 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 i buffi Con cui mi coccano i confiti A casa non li portano Mi fiondo al posto coni La prossima Compagnia E se Il predizionatore che ce l'ho io Dove è la ditta La ditta No quello là La ditta Dove è la ditta La ditta La ditta E' la ditta La ditta L'armi Soltanto Riesce a Tragracciarmi La ditta Quindi instante La ditta La ditta La ditta La ditta La ditta non so non saprei proprio penso un bridge quella tipo quella non posso dire quella che magari li voglio stare con me quando vuoi portare la commissione sia wifi che la presa tipo da un piano all'altro ma è un massimo quello che si trova perché c'era un amico mio stata cosa quale la connessione c'è l'età che arrivano tutte anche perché c'è la rapina è come un altro router praticamente è questo quello con le crisi però la cosa e si vede va bene tanto io sto facendo le stragi parlando a tele ma c'è intendiamoci proprio un bacio doppio forza vabbè c'è questo porco giuda regà stragi stavo facendo facevo dei quick tipo mamma ci può accompagnare solo madonna ma perché domani facevo i bocchini rotte coglioni con sit ma uuuh frate frate ti ho spento come cazzo ti ho spento un pochino con la mamma guarda quanto faccio schifo madonna si fa una partita di cristo regà a parte questo che ha chiamato l'area adesso però fa una bella partita madonna puttana e pedin donne li chiama e vince e' vero che è vero quello col predatore in mano stava si fa male Via, 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 via La polizia Madonna Che coglione di merda questa C'è proprio il ritardo nel cervello Uh, chiami il porco di Cristo Madonna, regà Diciamo che sto provando a tryhardare Però praticamente quello là è arrivato all'asta Oddio, te lo prendevo Ma vaffanculo Ma io le sto facendo i trick? No, non penso Sono proprio in fase tryharding, regà Non mi dica l'ha fatto Eh, addirittura L'ha fatto, raga Trickshot su PS3 Vabbè, facciamo un'altra partita, sti cazzi Ma ha ricaricato la partita Vediamo che cazzo sta dicendo Va Ho fatto girare talmente tanto il cazzo che Almeno un vinco si sta citto Sto pizzerraio di merda Cagato già lo cazzo, è cagato Madonna, pure io faccio schifo però, eh Regà C'è Dio cane Ah, la merda Vabbè, questo comunque non c'è una vita sociale Cioè Si vede proprio La figa, penso, ma anche in lontananza L'ho mai vista Io non mi spiego se non scoppio Seriamente Sono proprio illegali Grazie 11-0 Non c'è una vita sociale Pure io lo so Pure io, ah Lo fa schifo, però Mamma che cancer Oh, croce Croce di Cristo Madonna questi, madonna Questa ha rotto i coglioni Da, ma c'ha là Inbot No, c'ha l'Inbot Dai Ma che schifo E sfotteva pure sto retarded di merda E sfotteva pure sto ritardato di merda Capito? E gioca con l'Inbot E gioca No, vabbè Ti venisse comunque Non lo pernato Almeno con un moe Rimoe Istantaneamente Ritardato di merda No, vabbè È incredibile Dai È sfuttia Ma proprio italiano E ti sa Madonna che brutto sto quick 24-2 con l'Inbot Oh, croce No, veramente Guarda Perché se no Non ha effetto Capito? Io voglio una cosa Che faccia effetto Senza map Vabbè Se la gente si diverte così poco Contento per te Veramente contento per te Oh, con l'Ateral Vaffanculo Merda Così a casa Con l'Ateral Su TCT Va bene Che cazzo Che cazzo si ride Quello 2003 Di merda Rispetto per tutti Cazzo Cazzo Però quello a correre Ha rotto un po' Coglioni Però No Almeno quello piglio Qui dobbiamo Faccia di trick Almeno E vaffanculo Me la vado a vincere E me lo chiate tutto Parla 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 Vai Parlate Vai 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 Parlate 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 Che non vi sto sentendo Vai Soprattutto nel 2003 Io queste cose Non me le faccio dire Ho vinto Posso quittare Si attaccano al mio Fottuto cazzone Ci vediamo al prossimo video Questo video Chiamerò Cosa c'era In quel video Il king E le lobby Di merda Quella è sicura Che non vi sto sentendo Allora Che non vi sto sentendo 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 Grazie.